Ok Ivor, quanto sei felice dopo questa gara? Sono molto molto contento, prima di tutto perché questo è un grande club con grandi compagni di squadra, grande staff, veramente un grande club. Sono ovviamente contento per il mio debutto che nasce dal lavoro quotidiano in allenamento, è una serata questa che sognavo fin da quando ero piccolo e sono molto contento. Ci parli delle tue parate ai calci di rigore? Sì, due parate importanti ma potevo farne anche di più, potevo fare meglio in un paio di situazioni, ma sono comunque molto felice e il merito è del mio mister Massimo Cataldi che mi ha insegnato giorno dopo giorno, fino all'allenamento di ieri dove abbiamo preparato anche i calci di rigore, è una grande opportunità per me, sono contento di averla sfruttata. Allenamenti duri ma che ti fanno migliorare? È vero, gli allenamenti sono molto duri ma a me piace allenarmi duramente, cercare di migliorare anche solo quell'1% al giorno che poi però fa la differenza e sono veramente grato di avere questa opportunità. L'emozione di passare il turno di Coppa Italia? Passare il turno è stata veramente una grande emozione per tutta la squadra, perché a un certo punto avremmo anche potuto perderla e mentalmente era difficile, ma ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che volevamo assolutamente vincere questa gara molto dura e così l'abbiamo fatto fino alla fine. Questo extra time era molto difficile per tutti e anche per le persone che guardano. abbiamo dato tutto, abbiamo mai iniziato a credere e questo è quello che vogliamo oggi. Sappiamo che hai già imparato un bel po' di italiano in appena un paio di mesi, quindi cosa ti piacerebbe dire in italiano ai nostri tifosi? Grazie a tutti per il vostro supporto, brava, sì, sono molto contento di essere qua. Forza Hellas, forza Hellas, sempre forza Hellas, sì.